L'area Ioni che tenne al centro di un nuovo servizio coordinato dei carabinieri della compagnia di Giarre sono quattro le denunce spiccate al termine dell'attività preventiva. Sono state controllate complessivamente 32 persone, 20 veicoli di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, eseguite quattro perquisizioni domiciliari ed elevate cinque sanzioni al codice della strada. Nel corso del servizio preventivo al termine di una perquisizione domiciliare è stato deferito un 61enne di Santa Venerina per detenzione illegale di armi. L'uomo è stato trovato in possesso di un fucile da caccia calibro 16, ereditato da un parente e mai denunciato alle autorità competenti. L'arma è stata opportunamente sequestrata. Denunciato anche una 33enne di origine romene ma residente a Giarre per la violazione dei doveri concernenti le cose sottoposte a sequestro. La donna è stata sorpresa mentre era alla guida del proprio veicolo, precedentemente sottoposto a sequestro amministrativo. Nel corso dei controlli su strada sono stati denunciati un 23enne e un 21enne di Giarre e Mascali, poiché sorpresi a condurre i propri veicoli senza la patente di guida. Per entrambi è stata segnalata la recidiva, poiché già denunciati in passato per la medesima trasgressione. Segnalato infine alla prefettura di Catania un 21enne di Giardini Naxos, poiché trovati in possesso di alcune dosi di hashish detenute per uso personale.